Vittorio Centrella, candidato nella lista di Grande Sud, il suo slogan è Senza giovani il territorio non ha forza, però giovani che scappano dall'Irpinia. Sì, giovani scappano dall'Irpinia, scappano dal sud Italia e il problema è proprio questo. Noi stiamo cercando di fare una campagna elettorale per portare al centro dell'attenzione il problema dei ragazzi. I ragazzi disoccupati, i giovani laureati che comunque trovano lavoro all'estero e stranamente negli ultimi giorni proprio un mio amico ha fatto la domanda in due giorni praticamente l'hanno chiamato in Olanda, ha fatto il colloquio ed è partito per andare a lavorare. Laureato e quindi questa è la cosa strana, da noi non si trova lavoro neanche dopo un anno o due anni dalla laurea qui invece, cioè all'estero invece, basta fare la domanda e andare via. Non è normale, non è giusto e maggiormente la nostra gente, i nostri ragazzi devono restare qua perché sono la ricchezza del sud Italia. L'Irpinia è la terra delle grandi vertenze, dall'FMA all'Irisbus solo per citarne alcuni. Che cosa si poteva fare, non è stato fatto e che cosa si può ancora fare per salvare queste ragazze? Cosa si poteva fare non si è fatto. Prima di tutto non si è fatto una sinergia tra i vari politici della zona. Tutti i parlamentari che erano nella vecchia legislatura hanno fatto le passerelle e in effetti non hanno fatto sinergia per portare al centro dell'attenzione queste vertenze. Cosa si potrà fare? Spero che non sia troppo tardi. In effetti gli operai ci mettono l'impegno da due anni. Oggi l'ultimo è il caso di un altro operaio che ha scritto la lettera al Presidente della Repubblica e la soluzione è diventata quasi difficile trovarla. Speriamo solo che arrivi qualche imprenditore ad investire nelle nostre zone, così come è capitato per l'Almec e nello stesso tempo che gli operai capiscano che comunque l'importante è lavorare, non quello che si produce. In caso di elezione qual è il suo impegno per l'Irpinia? L'impegno per l'Irpinia è portare i nostri problemi, i problemi del sud, i problemi dell'Irpinia al centro dell'attenzione e in Parlamento. Spesso si parla in politica di risoluzione di problemi, di promesse. Oggi non abbiamo niente da promettere se non altro l'impegno, ma maggiormente la possibilità e la sicurezza che sul territorio ci sarò sempre. Sono stato sempre tra la gente e il resto tra la gente.